Non hanno sorpreso più di tanto le motivazioni depositate ieri dal giudice per le udienze preliminari Andrea Reale sulla condanna a 30 anni di Veronica Panarello. La donna è stata descritta come lucidamente manipolatrice che non ha mostrato il minimo cenno di pentimento mettendo anzi in moto un meccanismo distruttivo e autodistruttivo portando avanti anche dopo l'arresto per l'omicidio del figlio il piccolo Loris di 8 anni con atteggiamento calunnioso nei confronti del suocero chiamato incorreita nel delitto. Si riassumono in questi termini le circa 200 pagine di motivazioni depositate a quasi 4 mesi dalla condanna a 30 anni di carcere della Panarello, accusata di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Per il giudice si tratta di uno dei più gravi figlicidi di questi ultimi anni commesso con spietata furia omicidaria e con una determinazione e un disprezzo davvero glaciali. La donna non ha avuto alcun ritegno e rispetto neanche quando ha scaraventato il cadavere di Loris da quasi 3 metri di altezza procurandogli frattura alla teca cranica. La Panarello, si legge ancora nelle motivazioni, si è liberata del figlio come fosse uno dei tanti sacchi di spazzatura che quella mattina, stando alle sue dichiarazioni, avrebbe gettato. Quasi un'ordinaria faccenda domestica da sbrigare. Subito dopo l'efferato delitto la madre del piccolo Loris ha continuato nella recita soggetto senza alcun tentennamento, commettendo di fatta il più innaturale dei crimini occultando il cadavere del figlio senza pietà e pentimento ed anzi distruggendo tutte le possibili prove, compresa la sparizione dello zainetto del figlio mai ritrovato e che potrebbe avere contenuto al suo interno anche la reale arma del delitto ovvero le fascette da elettricista utilizzate per strangolare la vittima. Tra l'altro, si legge ancora testualmente, avrebbe chiesto al marito Davide Stival nelle ore delle ricerche del piccolo di organizzare un viaggio verosimilmente per la fuga dalle proprie responsabilità e dalle indagini. Dalle motivazioni si evince una sorta di sindrome di Medea ovvero quel complesso che porta le madri a uccidere i propri figli rovesciando ad un sol colpo la catena della generazione. Ti ho dato la vita e ora ti do la morte. Per il giudice il movente del delitto sarebbe da ricercare nella resistenza mostrata dal bimbo a recarsi all'istituto frequentato per una lezione non gradita ovvero il suo desiderio di restare con la madre andando con lei al corso di cucina. Una sorta di dolo d'impeto che nasce dal rifiuto del bambino di andare a scuola quella maledetta mattina del 29 novembre 2014. Un omicidio quindi dettato da un impulso incontrollabile da uno stato passionale momentaneo della donna. Il piccolo, scrive ancora il giudice, nelle sue motivazioni racchiuse in circa 200 pagine non ha nemmeno posto resistenza alla furia assassina della madre e all'inconsulta e distruttiva azione omicidiaria della madre. l'avvocato difensore ha annunciato ricorso in appello.